In un contesto economico in grave difficoltà, con la perdita nelle marche di più di mille attività produttive nel 2020, diventa ancora più importante dotarsi di nuovi strumenti per esistere alla crisi causata dalla pandemia e progettare soluzioni per ripartire. Non conta l'età, contano le idee e soprattutto le competenze. E' questo lo spirito con cui Confartigianato Ancona Pesor Urbino lancia la sedicesima edizione della ormai storica Scuola per Imprenditori, in collaborazione con la Camera di Commercio e il Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche. Un progetto di altissima formazione che anche quest'anno è capace di rinnovarsi con un nuovo corso dedicato ai giovani imprenditori. Saranno due percorsi distinti, Scuola per Imprenditori classica è destinata appunto a chi già fa impresa, una Scuola per Imprenditori è un percorso dedicato proprio a chi invece vuole avventurarsi nel mondo dell'imprenditoria, vuole diventare imprenditore o vuole anche fare il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia. Ecco, questi sono due percorsi divisi che serviranno appunto per dare gli strumenti per capire quello a cui si va incontro e quelle che sono le difficoltà ma anche le grandi opportunità di questo nostro paese e del fare impresa nel nostro paese. Anche quest'anno seminari e lezioni saranno coordinati dal professor Gianluca Gregori, magnifico rettore dell'Università Politecnica delle Marche. L'obiettivo infatti è quello di creare un legame tra le conoscenze e i nuovi strumenti per affrontare i mercati. Evidenziare quelli che sono i nuovi strumenti per affrontare i mercati. Penso solo al digitale, quindi non solo gli aspetti economico-finanziari a cui faceva riferimento, ma tutto il tema del digitale che può essere utilizzato non soltanto in un'attività commerciale, ma anche in quella della riorganizzazione interna, delle procedure, quindi un utilizzo esteso. È un'opportunità che offriamo gratuitamente, ha sottolineato invece il segretario di Confartigianato Pierpaoli. In un momento difficile come questo, ha detto, è fondamentale alimentare il circuito delle competenze, grazie alle quali le imprese possono anche rinnovarsi. Puntiamo forte sulle aziende che combattono ogni giorno e hanno bisogno di nuove prospettive. Noi lavoriamo affinché ci sia un anno bianco della tassazione, affinché ci sia una moratoria sul credito, però le imprese devono iniziare a affrontare anche magari la gestione del debito bancario, contratto in questi anni per resistere a questa situazione economica. E quindi è per questo indispensabile oggi far partecipare i nostri imprenditori, per aiutarli a resistere a un contesto competitivo così fortemente mutato.